Ciao amici e benvenuti al nostro programma di cucina con i nostri due gemellini Gigi e Lalla Oggi faremo un concorso culinario, chi sarà il vincitore? Io sono molto bravo a cucinare i primi piatti, ma anche la mia concorrente è molto preparata E io mi specializo nei dolci, però anche Gigi è molto bravo a cucinare Benissimo, vedo che affrontate la sfida con spirito sportivo Ma dimmi Gigi, che cosa ci cucinerai? Ho deciso di preparare la pasta con i gamberetti Aha, quindi una specialità di mare E invece Lalla, che cosa ci cucinerai tu? Io preparerò una sorta di crepe Aha, originale e sostanzioso Mettiamoci all'opera Per prima cosa preparerò la pasta Adesso darò alla pasta la forma delle farfalle Mh mh, è un tipo di pasta molto difficile Complimenti! Ma vediamo come se la cava all'altro concorrente Che cosa dici Lalla? Oh, è terribile! Tutte le mie crepe stanno venendo di forme diverse Aha, significa che c'è bisogno di un aiutino dal conduttore Ecco Lalla, guarda com'è venuta rotonda la tua crepe con l'aiuto di questo strumento Grazie Sidney Ehi, così non va, mi stai aiutando l'altro concorrente Non è un problema, posso aiutare anche te? Ok, Lalla, l'altro concorrente ha bisogno di me Fai da sola E tu qua, faccio proprio come mi ha detto Sidney Wow! Così! Wow! Il nostro concorrente Gigi ci ha chiesto aiuto Vediamo di che cosa bisogna Solo una farfalla È molto difficile Sidney E va bene, facciamole insieme Oh, grazie Sidney Con te faremo molto più in fretta Wow! Ne abbiamo fatti tantissimi E adesso andiamo a vedere come si lacava l'altro concorrente con il dessert Ah, la mia porta è pronta A che punto siamo, Lalla? Mi servirebbe soltanto un po' di aiuto a fare le macchie Non è un problema Sidney è qui per aiutarti Ma che bella Sidney, grazie Io ho finito La nostra concorrente Lalla è pronta Ha terminato Andiamo quindi a vedere come se la sta cavando Gigi Vengo anche io con te Oh, è quasi pasta Sarà una pasta con i gamberi Buonissima La nostra concorrente Lalla ha terminato per prima Ma vediamo come se la sta cavando il nostro concorrente Gigi Gigi, a che punto sei? Gigi, a che punto sei? Devo solo aggiungere i gamberetti alla pasta Fantastico! Significa che anche il nostro secondo concorrente ha terminato la sua ricetta Bene, aggiungiamo i gamberetti alla pasta Mmm, ha proprio un buon profumo E ha anche un aspetto delizioso È giunto dunque il momento di provare entrambi i nostri piatti Chi sarà il vincitore di questa sfida? Mmm, ma è buonissima! Mmm Mmm, fa provare anche a me Mmm, paradisiaco Sono contento che vi piaccia E adesso proviamo la torta di Lalla Proviamo tutti insieme la torta di Lalla Mmm, è davvero una torta deliziosa Sarà molto difficile decidere chi è il vincitore di questa sfida Forse abbiamo vinto tutti e due perché siamo stati tutti e due bravissimi Ma è una fantastica idea Ma è una fantastica idea Lalla E allora annuncio i vincitori di questo concorso culinario Ecco a voi i grandi cuochi Gigi e Lalla Abbiamo vinto tutti e due Eh sì, ha vinto l'amicizia E dimmi, anche a te piace cucinare? Ciao Ciao! Ciao!